La figlia di Michele Unzicher e Eros Ramazzotti è di certo da tutti considerata una privilegiata Avere due genitori super VIP, però, può essere un'arma a doppio taglio, soprattutto perché il pubblico ha grandi aspettative, e perché, purtroppo, tende a considerarti una raccomandata Aurora Ramazzotti, però, ha saputo dimostrare di essere all'altezza dei suoi genitori, e di aver meritato certi lavori Per esempio la conduzione del daily di X-Factor, che ha condotto per ben tre anni. È stato lavorando al talent musicale che la Ramazzotti ha capito di voler fare, nella sua vita, televisione Proprio come sua madre. Quest'anno, però, Aurora non lavora più a X-Factor, al suo posto ci sono Benji e Fede che, ovviamente, sono stati felicissimi del nuovo incarico Lei, invece, ci è rimasta male. E in una lunga intervista a gente si è sfogata, e ha rivelato tutto il suo dispiacere Non è stupita, per carità, solo dispiaciuta, punto Aurora Ramazzotti era consapevole che Prima o poi sarebbe successo, ma questo non le ha impedito di soffrire per la sostituzione Nell'intervista agente Aurora ha confermato che condurre il daily di X-Factor è stato per lei un vero, e proprio trampolino di lancio Trampolino che le ha dato la possibilità di capire Cosa vuole fare grande? E non è poco. Specie se sei giovane, come è giovane Aurora Ramazzotti, punto Nonostante la delusione per X-Factor, Aurora sta vivendo molto felice della sua vita. È circondata dall'amore della sua famiglia, e ha trovato la stabilità in amore con il suo goffredo Da quando i due si sono conosciuti non si sono più lasciati. E la loro relazione sta appassionando tutti Però, per il momento, non si parla di matrimonio. Ma di figli. Neanche, per il momento Ma, a proposito del figlio, o della figlia che verranno, Aurora ha fatto una dichiarazione importante Punto Launziker, infatti, che sta provando ad avere il quarto figlio con il marito Tommaso Trussardi, con il quale ha già sole e celeste, vorrebbe tanto un nipotino E questo si sapeva. Ma, nell'intervista agente, Aurora spiega che Launziker lo vorrebbe subito. Ma lei è abituata male, scherza mi ha avuto, quando aveva 19 anni. Sono già in ritardo di tre anni per lei Per ora, però, Lara Mazzotti sembra più interessata alla carriera che alla famiglia Secondo quanto ha svelato al settimanale, presto potrebbe esserci un posto per lei anche nella rete medias .